In questo quadro ho voluto rappresentare l'armonia tra uomo e natura, che sono due elementi che ho visto nel mondo di pronema. L'ho realizzato in tecnica acrilica su tela. Sono Ilaria Zanellate, sono un'illustratrice, mi occupo soprattutto di illustrazione per l'infanzia e quindi sono molto vicina al mondo dei bambini. Per questo amo rappresentare soggetti un po' fiabeschi, un po' nati dai sogni, quel mondo dei bambini che forse da adulti un po' si dimentica. In questo quadro ho voluto anche rappresentare questo cane, che è molto simile al padrone, è una cosa che mi diverte tantissimo e infatti potete trovare tantissimi cani che assomigliano ai loro padroni.